Cari spettatori, benvenuti sul nostro canale dedicato al mondo di amici di Maria De Filippi. Oggi vi portiamo gli ultimi aggiornamenti direttamente dal Daytime di Amici 23, focalizzandoci sulla situazione tesa tra Matthew e il suo insegnante Rudy Zerbi. Matthew, allievo di Rudy, ha vissuto un momento di crisi in cui ha esposto dubbi sull'apprezzamento ricevuto, confrontandosi con il fatto che altri allievi sembrano ricevere più attenzione. Questo ha portato a una decisione drastica. Cambiare squadra, passando dalla squadra di Rudy a quella di Anna Pettinelli. Tuttavia, Rudy Zerbi è intervenuto in modo sorprendente, entrando nella casetta per affrontare la situazione. Ha dichiarato l'importanza della fiducia nel rapporto insegnante-allievo e ha chiesto a Matthew di restituire la maglia. Una richiesta che ha lasciato tutti senza parole. Matthew ha risposto con professionalità. Ma la tensione è palpabile. La decisione finale su chi terrà l'allievo spetta ora ad Anna Pettinelli. La sua ragazza, Miu, ha espresso preoccupazione per la sua permanenza nel programma. Restate sintonizzati per scoprire come si sviluppa questa situazione e per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda Amici 23. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un aggiornamento. Ci vediamo alla prossima.